Il primo step che un consiglio di classe deve affrontare nel momento in cui vuole progettare un'unità di apprendimento è quella di riflettere sulla situazione della classe e sull'analisi proprio del curriculum della classe. Attenzione, noi abbiamo creato come ImparaDigitale una piattaforma che è il curriculum mapping dove sono state catalogate oltre 11.000 unità di apprendimento ed è stato utilizzato da migliaia e migliaia di docenti in Italia. Io, noi quando facciamo formazione, nonostante il curriculum mapping sia una piattaforma che prende per mano proprio il docente e il consiglio di classe, la rete dei docenti che farà quel determinato progetto, noi diciamo sempre di aprirlo alla fine della riflessione, cioè di non aprirlo immediatamente. Per quale motivo? Perché il curriculum mapping, essendo una piattaforma a cui esportazione finale è quella della progettazione dell'unità di apprendimento, parte proprio con il titolo dell'unità di apprendimento. E quindi si tende, almeno in gran parte, molti docenti, non tutti per carità, ma molti docenti, nel momento in cui noi chiediamo qual è il primo step di lavoro che fate nel consiglio di classe, ammettendo che vogliamo fare un progetto a più discipline, transdisciplinare. Qual è il primo step che voi andate ad affrontare? L'ottanta per cento dei docenti ci risponde l'argomento in cui tutte le discipline possono trovare degli argomenti da trattare nell'arco di tempo previsto per lo svolgimento di quell'unità di apprendimento. Ecco, per noi questo è un errore molto forte, perché proprio ci porta a focalizzarci sulle conoscenze, sul programma e non invece ad impostare in maniera corretta quello che è un progetto o un'unità di apprendimento. Allora ci sono delle fasi precedenti alla scelta dell'argomento che naturalmente si dovrà fare, ma non subito. Prima bisogna fare delle riflessioni di tipo diverso. Ora Marcello vogliamo iniziare magari a parlare di che cosa, quali sono i primi, i primi passi che il consiglio, adesso immaginiamo, no? Di varie discipline e il consiglio di classe si trova a settembre. A settembre a dover definire la prima unità di apprendimento. Settembre, ottobre, la prima unità di apprendimento. Allora qual è il primo step, questa riflessione prima di iniziare? Che cosa, che cosa si intende? Che cosa dovrebbe fare un consiglio di classe? Beh, chiaramente un consiglio di classe dovrebbe, se è un consiglio di classe del primo anno di un nuovo ciclo scolastico, chiaramente si trova di fronte dei ragazzi che non conosce e che vengono da esperienze diverse molte volte, quindi provengono da scuole diverse che hanno una differenziazione anche su alcuni percorsi e quindi la cosa importante, come tutti facciamo, è quello di conoscere qual è il livello di competenze, ma anche di conoscenze che i ragazzi hanno acquisito. Invece, se siamo negli anni successivi, sarebbe opportuno andare a vedere la documentazione, quindi i percorsi, quindi anche le UDA che hanno, che hanno, che hanno affrontato negli anni precedenti. Un momento importante è anche se ci troviamo in un momento di passaggio tra la primaria e la secondaria o tra il bienio e il triennio di scuola secondaria di secondo grado, è proprio andare a guardare la certificazione delle competenze, perché una buona certificazione delle competenze ci dà un quadro abbastanza chiaro di quelle che sono le immagini di un ragazzo, non solo dal punto di vista degli apprendimenti, ma anche degli atteggiamenti, quali sono i suoi punti deboli, dal punto di vista che possono essere sulla metodologia, sul metodo di lavoro, sull'aspetto della socializzazione, degli apprendimenti e così via. Quindi nel momento iniziale bisogna cercare di recuperare più documentazione possibile. Questo molte volte non è possibile perché nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro o dalla scuola primaria, ad esempio la scuola secondaria, questi passaggi molte volte non sono molto chiari anche a livello di documentazione. Però abbiamo gli strumenti per fare delle analisi e a questo punto quando abbiamo un minimo, perché chiaramente non può essere completamente esaustivo un quadro, perché avremo bisogno di diverse settimane, quando però abbiamo un quadro esaustivo possiamo iniziare a progettare. Come avevamo detto in precedenza si progetta tenendo presente il percorso della scuola, quindi qual è il progetto di massima che la scuola ha elaborato a livello di PTOF. Poi c'è anche da aggiungere quelle che sono anche le particolarità dei ragazzi e quindi conoscere un minimo degli stili di apprendimento dei ragazzi. Questo processo poi chiaramente nel corso dell'anno è migliorabile perché nel momento in cui le UDA sin dall'inizio vengono messe in atto è possibile continuamente intervenire e adeguare maggiormente quelli che sono i traguardi alle esigenze veramente che noi incontriamo solamente quando i ragazzi li vediamo lavorare in determinati progetti. Quindi l'aspetto importante poi è che tutto questo vada a confluire in una progettazione di classe che sia una progettazione come viene fatta di carattere annuale dove le varie competenze che sono come abbiamo detto quelle di carattere europeo per l'apprendimento permanente vengono affrontate tutte e otto ma non contemporaneamente poi anche lo vedremo ma vengono affrontate tutte e otto almeno in ciascuna di loro almeno in un percorso scolastico di UDA. Questo percorso di UDA di unità di apprendimento sono unità di apprendimento che possono avere carattere fortemente multidisciplinare e quindi possono vedere il convergere di alcune discipline tutte è diciamo irrealistico come vedremo. Oppure può essere anche un percorso disciplinare, un percorso per asse. Questo chiaramente è rimandato molto alla organizzazione della scuola e anche alle competenze che ci sono all'interno della scuola. Quindi il primo passo io penso che sia questa conoscenza della classe e conoscenza anche del percorso che la scuola ha disegnato per per ciascun studente in un che rimanda sia all'insegnamento e fondamentalmente all'apprendimento. Sì assolutamente tutto naturalmente tutto più che corretto. Io però sono anche molto più pratica da certi punti di vista nel senso che quando si fa un progetto io lo dicevo l'altro giorno proprio in una riflessione con i vari docenti che lavorano all'interno dell'associazione dico è quasi impossibile fare un'unità di apprendimento unica perché la personalizzazione, il protagonismo degli studenti diventa assolutamente fondamentale. Sul protagonismo faremo proprio un discorso a parte in altra occasione ma la personalizzazione, cioè ogni studente, ogni studente ha dei propri talenti e ogni studente ha delle proprie criticità. Allora nel momento in cui si crea e naturalmente teniamo in considerazione tutto quello che ci ha detto Marcello che è importantissimo e fondamentale, nel momento in cui ci troviamo di fronte ai 20, 25, 30 ragazzi che abbiamo nella classe ognuno di loro avrà un percorso che appunto affronterà in una maniera personalizzata. Allora come si può creare un progetto? Certamente un progetto su degli obiettivi generali o sulle competenze trasversali è assolutamente fattibile, si deve fare ma è importante individuare e questo già ci porta alla valutazione, osservare con estrema attenzione il livello di partenza di ogni ragazzo e il suggerimento che noi possiamo dare è quello di fare sempre dei percorsi non annuali, non a lunga scadenza, ma delle unità di apprendimento a tempi brevi dove si mette in evidenza la necessità di quella specifica classe in quello specifico momento che magari se non corrisponde a quello che nel PTOF viene descritto come competenza in uscita di quell'anno scolastico ma se in quel momento quella classe ha una certa criticità e la maggioranza della classe ha una certa criticità a quella noi ci dobbiamo rivolgere e a quella noi dobbiamo tentare di far arrivare, di far superare i problemi ai singoli ragazzi. Quindi i percorsi per come li vediamo noi devono essere brevi, io dico sempre un mese e mezzo due mesi un'unità di apprendimento, siamo sempre in tempo poi a riprogettare altre unità di apprendimento e individuare poche, pochissime competenze che in quei due mesi i ragazzi dovrebbero raggiungere non raggiungere ma iniziare ad apprendere. Perché questo? Perché e poi dopo due mesi siamo appunto sempre in tempo a continuare sul nostro percorso. Probabilmente non andremo ad affrontare tutte e otto le competenze di cittadinanza ad esempio autonomia e responsabilità per me sono delle competenze molto alte dove magari gradatamente ci si arriva molto gradatamente a step magari successivi. Prima magari si ha più la necessità dell'insegnare ai nostri ragazzi a collaborare, ad ascoltarsi, a condividere, cioè a comunicare in una forma corretta. Per me il comunicare a qualsiasi, in qualsiasi fascia di età di studenti ci rivolgiamo, il comunicare, il collaborare. Il collaborare i ragazzi riescono, ma il comunicare in una forma corretta, con un lessico specifico, ad argomentare un pensiero articolandolo in due frasi corrette, collegate in una maniera esatta, questo già è uno degli obiettivi alti, no? Cioè che in tutte le classi noi possiamo riscontrare. Perché? Perché sono cambiati i nostri ragazzi, è cambiato il modo di comunicare, è cambiato il modo con cui loro interagiscono. Usano WhatsApp, usano i social, la comunicazione è completamente differente e quindi ricondurli a leggere, a scrivere in maniera corretta, ad argomentare in maniera corretta. Sembrano delle banalità, ma chi insegna sa benissimo che sono ad esempio delle competenze che sono necessarie da affrontare sin da subito. Allora, focalizziamoci su poco, sul poco, sul realistico. Non andiamo, quando io vedo delle unità di apprendimento dove tutte e otto le competenze di cittadinanza vengono elencate, incomincio a pensare che forse non abbiamo capito cosa vuol dire veramente, no? Focalizzarci su pochi punti. È chiaro che poi sono tutte interrelazionate tra di loro, questo è ovvio, ma la focalizzazione deve essere su una, barra due, non di più, periodo limitato. Poi, dopo, si vedrà come andare avanti, se continuare ad affrontare oppure se i ragazzi hanno raggiunto un livello accettabile per poter proseguire, per affrontare ulteriori percorsi e ulteriori lavori da fare in classe. Ecco, questo io direi che è la prima riflessione che dobbiamo fare. Il tempo, tempo breve, focalizzazione su competenze minime, cioè poche, non minime ma poche, e individuare il livello di partenza e pensare realisticamente a come, che cosa noi reputiamo sufficiente che i ragazzi abbiano appreso alla fine di questo nostro, di questo progetto. Dopo due mesi, realisticamente, ci aspettiamo che sappiano comunicare? Forse no, forse no, perché in due mesi non si impara a comunicare in maniera corretta. Però ci possono essere delle buone basi per iniziare ad affrontare questo percorso in una maniera corretta. Questa è la prima riflessione che io farei. Non so se Marcello si è d'accordo. Assolutamente. E perché noi abbiamo un ritorno comunque, una valutazione del nostro lavoro, è necessario costruire delle rubriche. Delle rubriche che siano semplici, che siano chiare, che siano condivise da tutto il consiglio di classe, soprattutto per quelle neta competenze di cui parlavi tu, cioè quelle otto competenze europee o le otto competenze di cittadinanza italiane elaborate dal Parlamento italiano, rubriche valutative che ci permettono comunque di vedere che il ragazzo in due mesi, che sono molto pochi, comunque ha fatto dei progressi rispetto al livello di partenza, chi non li ha fatti, perché li ha fatti, e quando c'è la condivisione di queste rubriche c'è una lettura più facile all'interno del consiglio di classe di ciascun nostro studente. Quindi le rubriche che devono essere già inserite nel curriculum di istituto possono poi essere comunque rielaborate e riadattate dal consiglio di classe, perché i classi dello stesso anno possono essere anche molto differenti l'una dall'altra e quindi possono essere riadattate e possono essere uno strumento utile di valutazione, che tra l'altro potrebbe essere, anzi dovrebbe essere condiviso sin dall'inizio con i ragazzi, assolutamente, se non costruite insieme. Questo lo vediamo nel secondo passaggio. Grazie a tutti.